la fed non tocca i tassi e li lascia ai massimi di sempre al 5 e 25 per cento quali sono le implicazioni e qual è lo stato di salute dell'economia americana in questo video non solo parleremo di questo e di tanto altro ma parleremo anche delle ultime notizie relative alla banca centrale europea quindi senza ulteriori indugi iniziamo dall'aggiornamento sui tassi di interesse ci troviamo quindi stabili al 5 25 per cento negli stati uniti ormai da diversi mesi praticamente vado a memoria ma da settembre più o meno del 2023 che segue una crescita importantissima dei tassi che abbiamo visto a partire dall'inizio del 2022 soprattutto se la guardiamo a livello storico è una delle crescite più veloci degli ultimi 40 anni dal punto di vista della crescita dei tassi di interesse ci si aspettava ve lo ricordate giugno 2022 numero uno di jp morgan una tempesta perfetta causata dalla fed e dalla guerra in ucraina in realtà la fed non ha causato nessuna tempesta perfetta ancora lo vedremo con i numeri per tempesta perfetta si intendeva fallimenti default il vero e proprio hard landing che invece ancora non si è verificato e quindi questo momento storico ha qualcosa di incredibile perché nonostante questa crescita vertiginosa dei tasti nonostante gli avvertimenti di persone molto autorevoli come jamie diamond l'economia ha tenuto commenteremo e l'abbiamo già fatto in altre occasioni l'ultimo trimestre dell'anno per quanto riguarda il prodotto interno lordo americano è stato impressionante molto positivo e per ora sembra che l'ipotesi soft landing quindi atterraggio soft vuol dire riduzione dell'inflazione senza shock recessivi sia stato raggiunto dalla banca centrale americana ma c'è un ma perché l'inflazione non è che sia su una traiettoria chiara di riduzione è questa la ragione per cui non hanno potuto toccare i tassi ancora e ti ricordo ne abbiamo parlato in questo video che i mercati scommettevano già verso settembre ottobre dell'anno scorso che a marzo ci sarebbe stato il primo taglio invece la fed ha detto no no non solo non ci sarà marzo lo vedremo dopo se ne parlerà tra diversi mesi proprio perché questo fenomeno di riduzione dell'inflazione non è ancora sotto controllo nel senso che c'è stata una forte riduzione soprattutto nella seconda metà del 2023 ma adesso oscilla un po attorno al 3 4 per cento questa è l'inflazione intanto esistono 19.000 tipi diversi di inflazione io qui te ne riporto due tipicamente quelli che vengono guardati maggiormente uno dall'opinione pubblica che è questo inflazione generica i banchieri centrali tendono a guardare l'inflazione core cioè vuol dire in cui vengono esclusi una serie di panieri più volatili tipicamente il cibo cioè gli alimentari e tutto quello che riguarda l'energia e come vediamo c'è sì una riduzione ma non è così sostanziale infatti dopo due mesi in cui l'inflazione core si era attestata al 3 9 per cento è scesa al 3 8 ma si vede che c'è da fare di più questa è la ragione per cui verosimilmente non hanno toccato i tassi ma qual è lo stato di salute dell'economia americana perché se non toccano i tassi vuol dire che tutto sommato l'economia regge e questo è quello che sta succedendo infatti commentavamo prima l'ultimo trimestre del 2023 ha visto una crescita del prodotto interno lordo del 3.2 per cento tra un mesetto circa vedremo il primo trimestre dell'anno qual è la situazione il pmi che è un indicatore che ci permette di avere una previsione no aspettative sul futuro che è l'indice dei direttori acquisti quando è sopra il 50 vuol dire che l'economia in espansione perché i direttori acquisti delle aziende vedono ordini in crescita bene è leggermente calato ma è ampiamente sopra il 50 quindi non si può dire che ci sia un sostanziale rallentamento qualcosa di preoccupante c'è un leggerissimo rallentamento diventerebbe preoccupante se fossimo attorno al 48 46 ok cosa che invece in europa abbiamo visto non ho i dati qui aggiornati li vedremo in un altro video anzi fammi sapere se ti interessa faremo un video sulla situazione europea dal punto di vista economico e le prospettive sono che non se la passi male che è un modo elegante per dire che se la sta passando abbastanza bene anche nei prossimi mesi il tasso di disoccupazione si un piccolo aumento dal 3,8 al 3,9 per cento se lo contestualizziamo sul lungo periodo siamo ai minimi storici della disoccupazione quindi piena occupazione per gli stati uniti oggettivamente di cosa si possono lamentare gli americani l'inflazione sta calando sta richiedendo un po di più del tempo necessario l'occupazione comunque tiene e le prospettive sono ancora discretamente buone quindi qual è la situazione mi piace molto questo meme era da un po che non portavo dei meme online e la fed non può tagliare i tassi perché sono preoccupati dall'inflazione no non ci piace dirlo la fed non può tagliare i tassi perché l'economia è troppo forte non è troppo forte però sicuramente non è in difficoltà e quindi non è richiesto un taglio dei tassi quindi l'obiettivo è comunque stabilizzare e confermare questo andamento di riduzione dell'inflazione che non è costante mese dopo mese queste sono le ultime proiezioni comunque sull'anno la crescita del prodotto interno lordo degli stati uniti è il 2.1 per cento cioè tipo tre volte quella dell'italia due volte quella dell'area euro più o meno sono comunque stima il rialzo per quanto riguarda la crescita economica americana il tasso di disoccupazione comunque sotto controllo sempre al 4 per cento nel 2024 gli stati uniti giusto per contestualizzare sei mesi fa il tasso di disoccupazione era così basso perché per ogni potenziale candidato a lavorare cioè persona che aveva bisogno di un nuovo lavoro c'erano due posti di lavoro forse troppo ok quindi ci può stare che sia stato fatto qualcosa per arrivare ad un tasso di disoccupazione anche più fisiologico che tipicamente si aggira attorno al 4 5 per cento quindi dato che sono sponsorizzato dalla fed e prima o poi distribuirò tutti i soldi che incasso con voi che seguite questo canale spettiamo una lancia in favore delle istituzioni americane no perché Janet Yellen ammette di essersi sbagliata che l'inflazione era transitoria nel 2022 in realtà alla fine del 2021 c'è stata questa male interpretazione del fenomeno inflattivo sia da parte della fed che da parte della bce l'inflazione era percepito come un fenomeno transitorio non lo è stato quantomeno se definiamo transitorio un fenomeno che alla fine durerà 3 4 5 anni difficile stimare quando sarà l'effettiva fine di questa infiammata inflattiva hanno sbagliato le valutazioni all'inizio però adesso a conti fatti viene da dire che quantomeno per gli stati uniti l'economia tiene i tassi di crescita ci sono gli utili sono in crescita non ci si può lamentare vedremo tra poco che qualcosina inizia a stridere ma niente ancora di particolarmente preoccupante sai già la data del tuo presunto pensionamento futuro hai un'idea di quale sarà il reddito che riceverai quando andrà in pensione se la risposta è sì puoi schippare questo video se la risposta è no allora presta attenzione perché questo tema è fondamentale da tenere sotto controllo per potersi garantire una pensione serena futura e una vecchiaia serena in generale abbiamo organizzato un evento proprio su questo tema il 3 di aprile alle ore 21 che ha l'obiettivo di farti capire qual è lo stato di salute del sistema previdenziale italiano quali sono le aspettative relativamente a reddito ed età del pensionamento e infine quali strategie adottare per poter crearsi una pensione integrativa e di conseguenza avere una pensione serena e tranquilla nel futuro l'evento è totalmente gratuito puoi iscriverti cliccando il link che trovi in descrizione di questo video in realtà ti svelo un segreto questo canale non è sponsorizzato dalla fed ma è sponsorizzato dal sottoscritto che è un imprenditore che ha anche un altro canale in cui parla di impresa di crescita personale di sviluppo professionale e se ti interessa e lo so che vi interessa perché molti si sono già iscritti questo non è più aggiornato siamo ormai ai 2000 iscritti iscriviti al canale ci sono contenuti molto interessanti dietro le quinte stiamo rifacendo completamente lo studio proprio per produrre più contenuti anche per questo canale quindi iscriviti totalmente gratuito e condividiamo contenuti più lato impresa e diciamo questo canale rimarrà lato investimenti e finanza personale quindi anni spese a capire chi finanziasse questo canale soros putin lagarde invece no vi ho fregato tutti perché il canale me lo sponsorizza da solo grazie per i commenti perché rendono molto più divertente questa attività divulgativa ok ma torniamo alla domanda quindi cosa ci aspetta il futuro riguardo ai tasse di interesse e soprattutto rispondiamo alla domanda che so che ti porrai se segui da poco questo canale ma perché parliamo degli stati uniti che siamo italiani perché sono la prima potenza economica del mondo sono il primo mercato finanziario in termini di importanza perché si dice che se gli stati uniti hanno raffreddore il resto del mondo prende l'influenza perché sono l'economia principale trainante del mondo e direttamente o indirettamente la nostra economia i nostri investimenti sono legati a doppio filo con l'economia americana in ogni meeting di aggiornamento dei tassi di interesse la fed condivide quelli che si chiamano dot plot cioè la proiezione di riduzione dei tassi di interesse e si stima diciamo queste sono le proiezioni che sta facendo oggi la fed che si ci saranno tre tagli dei tassi di interesse nel 2024 tutto ciò ovviamente a meno di shock inflattivi o fenomeni non previsti le proiezioni quindi dicono che i tassi di interesse dovrebbero arrivare al 4 5 per cento alla fine del 2024 attorno al 3 75 nel 2025 nel 2026 al 3 per cento tutto questo a meno di recessioni ovviamente cioè ci fosse una recessione un inchiodata economica queste bellissime proiezioni andrebbero a farsi friggere aspetto molto interessante da approfondire è questo guarderemo il grafico tra poco molto spesso si legge online di persone che si lamentano del fatto che le valute sono fiat money e le fiat money vuol dire che è una valuta il cui unico valore è la fiducia fondamentalmente che ha il chi riceve questa valuta in chi emette la valuta perché di fatto di sottostante c'è molto poco e negli stati uniti hanno aumentato la massa monetaria vado a memoria del 40 50 per cento più o meno negli ultimi cinque anni palese dimostrazione che se non sei collegato all'oro nell'emettere valuta le puoi stampare quanto ti pare faremo un approfondimento su questo tema ti spiego tra poco alla fine del video perché questo giochino non lo puoi fare all'infinito e capiremo meglio però un aspetto deve essere approfondito perché la moneta fiat scollegata dall'oro a conti fatti ha anche impedito recessioni devastanti come invece quelle che ci sono state quando la moneta era legata all'oro quindi per quanto si possa inveire contro i banchieri centrali che stampano denaro come vogliono che bla 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 aggiungi tutti gli stereotipi che preferisci è indiscutibile dati alla mano questa è l'istat americana le recessioni negli stati uniti questi dati non li ho trovati per l'europa da quando c'è stato lo scollegamento della valuta all'oro e quando si è potuta fare una politica monetaria come quella che abbiamo visto ha portato ad un progressivo ridursi delle durate delle recessioni questo è incontestabile pensate cosa è successo nel 2020 2020 in italia abbiamo perso il 10 per cento di pil non avessero stampato moneta non avessero fatto una politica espansiva spinta come quella che abbiamo visto verosimilmente non avremmo avuto poi l'inflazione che abbiamo commentato adesso no perché è stata un'inflazione che in buona parte al di là degli shock energetici è stata sostenuta da consumi pensiamo al discorso dei bonus e dell'edilizia ma questo fenomeno è stato uguale negli stati uniti anzi molto di più perché di denaro le hanno stampato molto di più progressivamente la durata delle recessioni si è ridotta a 36 mesi durata di recessione media dal 1990 al 2023 mediamente nel trentennio precedente una recessione media durava il doppio quasi il triplo tra gli anni 30 e gli anni 60 ovviamente lo dico perché la fed sponsorizza questo canale però è indiscutibile che la flessibilità di una moneta scollegata all'oro permetta di avere recessioni più brevi qual è il prezzo da pagare perché è ovvio che un prezzo da pagare c'è il prezzo è l'inflazione quindi da un lato ci lamentiamo dell'inflazione ed è indiscutibile non fa piacere a nessuno pagare di più le cose ed è indiscutibile che poi l'inflazione non ha lo stesso impatto su tutte le fasce della popolazione ma allo stesso tempo dobbiamo anche renderci conto che in qualche modo il prezzo da pagare per avere delle recessioni più brevi e quindi tendenzialmente lavorare di più perché invece quando c'è una recessione bella spinta ci ricordiamo cosa è successo nel 2007 2008 io me lo ricordo molto bene perché erano i miei primi anni lavorativi quando c'è una recessione e non ci sono certi strumenti di politica monetaria poi c'è la cassa integrazione ci sono i licenziamenti e la disoccupazione va molto in alto quindi ringraziando la fed che mi ha costretto a fare questa precisazione ovviamente sto scherzando passiamo ora alla banca centrale europea veloce aggiornamento anche sulla banca centrale europea che emette una valuta che è come carta igienica come dice francesco e trattandosi oggettivamente di carta igienica perché è una valuta fiat no io ti dico se ne hai in eccesso di questa carta igienica mandacela noi l'accettiamo molto volentieri cioè ti dico un utilizzo lo troviamo la banca centrale europea è guidata da christine lagarde che è praticamente un personaggio straamato da chi segue questo canale come possiamo vedere dai commenti in quanto marionetta di schwab e passiva esecutrice della sua azienda 20 30 della quarta rivoluzione industriale l'area euro rimane ad un tasso di interesse del 4,5 per cento e ormai è da settembre 2023 che non ci sono cambi sui tassi ma christine lagarde ha recentemente detto che se le previsioni saranno confermate a giugno potrebbe dovrebbe chi lo sa esserci il primo taglio dei tassi oltre all'inflazione monitoreremo i dati sui salari come abbiamo fatto noi margini profitto delle imprese e la crescita della produttività ha poi anche precisato che dopo il primo taglio dei tassi non possiamo vincolarci ad un determinato percorso di riduzione come dire l'errore l'abbiamo già commesso una volta di dire che l'inflazione era transitore adesso ci andiamo con i piedi di piombo e di conseguenza se va bene tagliamo i tassi a giugno e poi vedremo in corso d'opera quindi non chiedetecelo neanche perché è inutile se poi i dati non confermano l'andamento di riduzione quindi tutto a posto viene da dire sembrerebbe di sì cioè nel senso tutto rimane stabile non si toccano i tassi perché l'economia tiene siamo a posto ma diciamo che questo meme mi fa molto ridere perché in qualche modo in modo ovviamente polemico e divertente critica un po l'andamento della fed perché tra alta inflazione fallimento di banche potendo scegliere le ha scelte tutte e due cioè comunque l'inflazione non è scesa come si avrebbe voluto non con la stessa decisione di mesi fa abbiamo visto che è più resiliente quest'ultimo blocco di inflazione da togliere allo stesso tempo ci sono stati dei fallimenti bancari fallimenti bancari esti un po come il fenomeno che commentammo un anno fa no ti ricordi ne sono fallite sei in un mese marzo dell'anno scorso è stato un delirio da questo punto di vista e non se ne parla in italia perché non è un fenomeno così importante ma qualche banchetta è in difficoltà prevalentemente le banche commerciali quindi banche piccole quindi non è un problema sistemico come nel 2008 però in ogni caso new york community bank corp è andata in fallimento e ha dovuto ricapitalizzare quindi questo a confermare che questa politica dei tassi per ora l'economia a livello generale regge questi tassi però qualche ferito per strada viene lasciato altro fenomeno che secondo me è interessante approfondire per capire lo stato di salute dell'economia sono i fallimenti delle carte di credito dei vari finanziamenti no quindi credit card delinquencies quindi maggiore è il tasso di fallimento dei delle carte di credito all'americano o dei prestiti ad esempio sull'auto maggiore la difficoltà delle famiglie di sostenere l'aumento dei prezzi il loro tasso di indebitamento eccetera quindi ci fa capire qual è il vero stato di salute dell'economia i tassi di fallimento delle carte di credito negli stati uniti sono ai livelli più alti linea bluastra siamo ai valori più alti dal 2011 quindi paradossalmente siamo messi molto peggio di marzo 2020 no di quando è partita la pandemia da coronavirus il blocco dell'economia eccetera quindi è un valore preoccupante ancora no è un andamento che potrebbe diventare preoccupante tra poco se continua così potenzialmente sì lo monitoreremo quindi al di là di qualche fallimento bancario l'economia tiene i consumi delle famiglie tengono c'è solo una cosa che sembra essere veramente fuori controllo gli interessi sul debito pubblico americano interessi che toccano un trilione quindi mille miliardi di dollari e sono cresciuti del 98 per cento negli ultimi tre anni quindi gli stati uniti non devono al momento preoccuparsi della loro economia ma della sostenibilità del loro debito pubblico nel lungo periodo sì e ne parliamo in un prossimo video fammi sapere nei commenti se ti interessa